ciao a di sono paolo stella e questa è suonare stella oggi vi racconto le dieci cose che mi rendono felice appena sono entrato mi sono innamorato del bow window mi sono proprio visto lì in mezzo e ho detto ok questa sarà la mia casa è una struttura sia dentro che fuori molto riconoscibile con uno stile datato 1912 e all'epoca era l'unico edificio in in questa zona poi tutti gli altri hanno cercato un po di ispirarsi a quella che era l'architettura di questo palazzo il progetto suonare stella che ho fatto all'interno di questa abitazione soprattutto durante il lockdown è proprio per raccontare il design italiano che ci ha reso famosi nel mondo quindi ogni sei mesi io svuoto completamente la casa e la rifaccio disegnare da un nuovo architetto e un nuovo brand per raccontare il design italiano oggi siamo in un'installazione che ha fatto Piero Lissoni con b&b è stato durante il lockdown che ho passato qui nel mio appartamento da solo dove non c'erano praticamente piante che ho sentito per la prima volta l'esigenza proprio della natura e non potendo uscire uscire di casa non potendo andare in un bosco ho preso il bosco e l'ho portato dentro casa tant'è che ho cominciato a comprare un sacco di piante i miei amici seguendo l'esempio me ne hanno regalate altrettante e adesso c'è questa meraviglia che per me anche un rituale mattutino io mi sveglio la mattina molto presto alle cinque e mezza sei e la prima cosa che faccio è fare il giro delle piante innaffiarle vedere come stanno questo è petronio è arrivata con il suo nome dal mio professore di neurolinguistica paolo borzacchiello ed è arrivata con una frase ed era smetti di chiedere scusa era una frase perfetta per quel mio momento esattamente da quell'istante in cui è entrata in casa io ho smesso di chiedere scusa brava petronio brava all'interno della casa forse la cosa che mi rende più felice ma soprattutto che rende la casa più bella è l'illuminazione come vedete non c'è neanche un lampadario ma sono tutti punti luce preferibilmente dal basso e preferibilmente dimmerabili quindi posso decidere l'intensità della della luce all'interno delle varie ore del giorno e soprattutto tutta l'illuminazione di casa è in qualche modo supportata dalla da una ricerca da una collezione che faccio di lampade iconiche del design qui dietro di me vedete la pantella di louis pulsen ce ne sono tre non so se si vedono più la c'è la taccia di castiglioni ho numerosissime atollo di vicomagistretti in numerosissimi materiali diversi e sono tutte lampade con cui io ho fatto per la prima volta il mio passettino all'interno del design è sicuramente l'oggetto di design più accessibile a molte persone quindi ho cominciato a fare proprio una ricerca su quelle che erano dei capisaldi del design soprattutto italiano ma non solo italiano che hanno reso il design così importante per questa casa ci troviamo qui in uno che forse il più particolare degli ambienti della casa è stato disegnato e realizzato da bnb con la direzione creativa di piero lissoni ed è proprio un installazione che è stata fatta per il salone del mobile installazione per il rilancio delle bambole le bambole sono queste poltrone disegnate nel 1972 da mario bellini e con un restyling di piero lissoni dopo 50 anni vengono rilanciate in tutto il mondo io sono molto fiero e orgoglioso che questo rilancio sia iniziato proprio da questa casa è un'installazione che sicuramente ha stravolto la casa ma come forse avete capito io amo gli stravolgimenti questo è sicuramente uno degli ambienti più vissuti di suonare stella nonostante io non sia proprio un genio in cucina i miei amici lo sono differenza mia è però il luogo dove ci incontriamo tutti quando ci sono le cene perché qualcuno cucina qualcuno parla ed è sicuramente non la prima cucina anche questa come in tutto il resto della casa subisce varie evoluzioni questa è una cucina disegnata da palomba serafini per elmar e ha disegnato apposta per questa casa e a cui tengo molto perché è una dedica alla città di milano io sono arrivato da un'altra città mi sono trasferito a milano e sicuramente milano non è una città chiassosa che ti dice immediatamente com'è fatta no è una città totalmente introversa low profile che scopri piano piano nel tempo entrando dentro i palazzi aprendo i portoni è una bellezza nascosta sofisticata e questa è una cucina che non sembra neanche una cucina ma è tutta nascosta dietro questi pannelli che una volta aperti invece mostrano quella che di questa cucina mi piace anche il contrario quindi quando faccio le cene c'è un gran casino metto tutto lì dentro e invece di scoprire copro voilà siamo nell'ambiente che sicuramente mi rappresenta di più rispetto a tutta la casa sono circondato da questa carta da parati che è stata disegnata apposta per questa casa dallo studio palomba serafini e che porta avanti un tema a me molto caro che oltretutto il tema che da tutto il mood della casa ed è la gabbia la gabbia perché per anni mi sono sentito all'interno di una gabbia sia che mi sono messo da solo oppure anche un ruolo che mi è stato affidato da dalla società in cui non mi riscoprivo e non non mi sentivo rappresentato tant'è che come se potete notare tutti gli animali sono mezzi dentro mezzi fuori proprio nel tentativo di uscire da questa gabbia il modo e la maniera con cui io mi sono fatto conoscere per quello che ero è stato scrivere il mio primo romanzo altamente autobiografico di cui il capitolo centrale che dà anche il nome al libro che si chiama mitmi alla boa è scritto tutto lassù nella cornice della carta da parati ed ho proprio il capitolo in cui i due protagonisti si incontrano in questa boa e senza nessun filtro dichiarano quello che sono uno per l'altro senza neanche nessuna paura del giudizio in una estrema verità e questa estrema verità io volevo che fosse appunto anche questa casa che è un luogo dove io incontro dove faccio tantissime attività incontro ai miei amici e in tutto questo volevo che fosse anche un ambiente altamente confortevole dove la gente stesse bene ci fossero delle emanazioni di vibrazioni positive e quindi ho chiesto al mio insegnante di neurolinguistica paolo borzachiello quali fossero le parole in italiano che scientificamente stimolassero di più l'ormone della serotonina il cosiddetto ormone della felicità e queste cinque parole sono amore bellezza grazia gioia e meraviglia e ho chiesto appunto a chi ha fatto una carta da parati di nasconderle in giro quindi queste parole sono scritte su tutta la carta da parati anche quelle che ci sono nelle altre stanze e ci sono queste cinque parole e mi sembra un po' che la casa emani questo ormone della felicità e chiunque entra e magari per caso vede una parola scritta la dice una volta di più e nel dirlo scatena un grammo di felicità in più ogni volta da questo progetto suonare stella sono nate tantissime collaborazioni ed è come se la mia casa proprio uscisse potesse arrivare nelle case di tutte le altre persone quella che sicuramente mi ha reso più felice è quella di richard ginori ho fatto una collezione per loro ispirata assolutamente la carta da parati che abbiamo visto prima e ci sono alcune caratteristiche che parlano strettamente di me della mia vita infatti riprendono il tema della gabbia e i segni a posto che sono i piatti più grandi da mettere appunto a segnale il posto degli invitati hanno tutte delle frasi diverse che insieme compongono la poesia finale di meet me la boa poi ho a chi ti ama per caso per caso è il mio secondo romanzo a chi ti ama con gli occhi è una serie di a chi ti ama per a chi riesce ad amare che è una cosa difficilissima a chi non ti vuole cambiare e questo secondo me è da regalare un sacco di persone e appunto a chi ha parecchia per due oltretutto dato che c'è proprio questo tema di libertà di ricerca delle libertà soprattutto di questi animali che vogliono uscire dalla gabbia abbiamo fatto anche un filtro instagram che vi faccio vedere e che permette agli animali di trovare la loro libertà ed è questo la mia casa ha sicuramente una funzione di socialità molto pubblica ma anche qua ci sono invece delle zone che mi rendono felice quando sto da solo e quindi questa per esempio è la camera da letto e qui ci entro solo io è l'unica stanza interamente dipinta di questo colore molto rilassante anche nel soffitto e ci sono tutti gli elementi che proprio mi portano alla rilassatezza tipo c'è questo letto che è comunque di sempre di b&b che è un grande abbraccio appunto a questo colore e fra tutti gli elementi c'è una cosa che mi rilassa tantissimo ed è questa luna di luca balestra che è un artista che fa solo lune e prima di andare a letto il fatto che abbia questo satellite che in qualche modo mi dà la buonanotte mi dice sogni d'oro è una cosa che veramente mi fa stare bene in pace con me stesso prima di andare a letto l'ultima cosa è guardare la luna poi chiudo gli occhi il progetto suonare stella parla anche di arte cosa di cui sono profondamente appassionato e ad ogni cambio un artista nuovo mi racconta il suo mondo questo è quello di giuseppe lo schiavo che io amo tantissimo soprattutto questo quadro ce ne sono vari in giro per per la casa questa è una fotografia ed è una fotografia si chiama wind sculpture una serie di fotografie che lui ha fatto nei luoghi più ventosi del mondo queste sono delle cascate in islanda utilizzando la metallina che è quel materiale con cui quando vengono salvati i profughi del dal mare vengono ricoperti perché ristabilisce una situazione termica e ideale per l'uomo e lui si è messo dentro all'interno di questa che sembra appunto una scultura c'è proprio l'artista che poi ha fatto con l'autoscatto questa serie di foto come il vento e questo materiale costruiscono delle opere d'arte assolutamente ambientati in 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 posti incredibili io passo le ore davanti a questa fotografia veniamo in quella che è sicuramente la stanza più conosciuta della mia casa non pensate male perché è la doccia è conosciuta perché appunto è una stanza doccia proprio ricavato da una stanza che addirittura una sua finestra una doccia e all'inizio mi trovavo anche un po disagio ad avere così tanto spazio poi mi sono abituato benissimo e adesso faccio fatica nelle docce normali anche questa è completamente foderata da questa carta da parati disegnata da ludovica di palomba serafini in questo caso la carta da parati è impermeabile giustamente oltretutto c'è un fun fact perché ludovica aveva dipinto il johnny si chiama johnny questo scimpanzè con gli occhi molto arrabbiati molto cattivi io di notte quando andavo in bagno più di una volta mi sono preso grandi spaventi perché la faccia è perfettamente all'interno dell'arco quindi io di notte vedevo questo faccione arrabbiato e mi prendevo paura quindi è stato disegnato in maniera diversa adesso agli occhi dolci non è sempre un po inquietante con questo morso pronto a spaccare la gabbia ma ormai siamo diventati amici quindi ciao johnny ci vediamo stasera e siamo arrivati nel bow window dove c'è la sala da pranzo che è una cosa cui tengo tantissimo come potete vedere mi piace molto apparecchiare apparecchiare secondo magari canoni estetici di una volta un po il bon ton che si è perso con vari pezzi appunto la mia collezione ma anche i bicchieri della mia zia e mi piace molto tenere le fila di questo discorso come viene apparecchiato cosa si mangia soprattutto chi viene a cena in questo senso mi piace molto unire mondi diversi che si conoscono a tavola quindi può venire dal cantante dall'attore al allo studente alla l'imprenditore alla persona senza lavoro non importa a me interessa che vengono portate delle esperienze soprattutto che queste esperienze si incontrino mondi completamente lontani si uniscono a tavola ed è lì che nascono le idee per esempio stasera abbiamo a cena ornella vanoni che sappiamo tutti è un personaggio meraviglioso e fantastico ma ha dei gusti molto raffinati e sofisticati e spero di essere all'altezza di questa meravigliosa ospite quindi ve lo saprò dire queste sono le dieci cose che mi rendono felice e l'undicesima sei tu ciao sono paolo stella e se vuoi vedere altri video di ad clicca qui ciao 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 ciao